Oggi Rossini News si arrampica fino ai 2726 metri dello Stelvio per raggiungere Zico Pieri, l'atleta e recordman Cagliese, impegnato, come i nostri telespettatori ormai sanno, nella sua impresa Stelvio Unlimited 2021. Siamo ai due terzi dell'impresa e allora a Zico Pieri chiediamo a che punto sei rispetto alla tua tabella di marcia? Stai rispettando quello che ti è riprefisso? Il mio piano di marcia in realtà è venuto strada facendo perché ho iniziato, la mia indole di esploratore mi spinge sempre a scavare e trovare il limite, quindi anche il limite di ogni giornata senza pensare poi alle giornate future, però fin dall'inizio lo Stelvio ha imposto i suoi ritmi e per fortuna ci ricorda che è la natura che comanda, quindi ho sofferto di adattamento all'altitudine, mal di testa, problemi intestinali e quindi va da sé che tutti i programmi che potevi avere in testa li accantoni e pensi a ogni singola giornata. Naturalmente è la mia indole come in passato quello di scavare e trovare il limite e questo mi ha portato a mantenere un buon ritmo giornaliero fino ad arrivare alla 69esima scalata e a oltrepassare 100.000 metri di slivello, quindi parliamo di oltre 12 volte l'altezza dell'Everest fatta in 20 giorni. Si sente spesso sottolineare dagli atleti l'importanza del team in qualunque forma di impresa sportiva. Ci puoi spiegare meglio in che senso il team è efficace e qual è l'apporto del tuo team in questo tuo tipo speciale di attività? Il team in questo progetto è stato assolutamente fondamentale fin dalla partenza, fin dalla progettazione, fin dall'inizio del progetto. E si è visto chiaramente che anche durante la performance, durante le scalate hanno un'importanza cruciale. Più di una volta mi hanno visto in grande difficoltà e si sono stretti intorno a me anche cambiando a volte i turni di avvicinamento. Magari era programmata che venisse via una sola persona ma vedendomi in difficoltà poi mi sono ritrovato con due, tre, quattro persone anche in ammiraglia per darmi il sostegno. Questo naturalmente mi dà una grande forza. In più si sono aggiunte anche altre persone che hanno collaborato con il team. Molti hanno fatto centinaia di chilometri per venire a sostenermi ed aiutarmi. Li ho visti ripartire anche con Magone, con qualche abbraccio profondo. Quindi c'è veramente una condivisione totale all'interno del team e credo, sono veramente convinto che questo sia fondamentale perché nello stegno in questa natura potente, selvaggia e per fortuna dico potente, selvaggia perché ci ricorda bene chi è che comanda e chi è che detta le regole. Sarebbe stato quasi impossibile arrivare fino a questo punto. Anche per me è sorprendente perché siamo oltre i 100.000 metri di dislivello. A due terzi dell'impresa si sente di più il peso di tutto quello che è stato fatto o l'effetto calamita del traguardo che ormai si sente com'è imminente? A due terzi dell'impresa si sente la bellezza di tutto quello che è stato fatto. Potrei interrompere qua la mia avventura e avere con me una grande ricchezza da portarmi a casa e da raccontare. Quindi assolutamente è il valore di quello che è già stato fatto. Per quel che riguarda invece quello che dovrò ancora fare, la vedo esattamente in questo modo. Vedo che mi mancano dieci giorni e comincio a pensare che sono pochi e comincio a pensare che questa avventura, questa bellissima avventura sta per finire. Quindi è esattamente il contrario di un pensiero negativo. Naturalmente sono orientato sempre e solamente a una singola scalata e al momento è una giornata. Se fossi orientato ai numeri mi sarei perso tante belle cose. Per farvi un esempio, stamattina ho fatto una scalata con un signore olandese, Jakobs, interessantissima persona e abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante. Se avessi prestato solo attenzione ai numeri sarei stato sul mio ritmo, sulla mia scalata, sui miei tempi. Giusto una pedalata in più lo avrei perso e avrei rinunciato a una grande conversazione che mi ha arricchito. Quindi a volte focalizzarsi sui numeri e sul futuro troppo lontano non ci porta in una buona strada. Quindi focus nel momento per me è la chiave di tutto e di godersi veramente le sensazioni e le emozioni. Ringraziamo Zico Pieri e naturalmente anche Maurizio Radi che lo sta sostenendo nella sua impresa. Ci prepariamo ad accoglierlo al rientro dalla sua Stelvio Unlimited 2021.